Comunicando, comunicando, intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando Amiche ed amici di Volonbright, siamo qui da Piazza Darmi per la quarta serata dei Dialoghi sulla Salute Questa sera si parlerà di arte e salute, abbiamo ospite qui con noi Alberto Taverna, psicologo che lavora per la città di Torino e si occupa da moltissimi anni di arte e terapia Benvenuto Alberto. Grazie, grazie di avermi invitato, è un piacere essere qui Allora, perché è importante la tua presenza qui questa sera e perché è importante parlare di arte e di salute? Ma sul perché sia importante la mia presenza non lo so, diciamo che l'argomento è interessante perché è un binomio che da tanto tempo si sta diffondendo Cioè dal fine dell'Ottocento che ci sono testimonianze di persone che presenti negli ospedali psichiatrici dipingevano Alcune di queste opere adesso sono conservate in importanti musei ma al di là delle star, diciamo così, dell'arte irregolare C'è sicuramente una grande attenzione alla possibilità di esprimere il proprio mondo interiore, le proprie immagini, le proprie fantasie Ok, poi una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti che è anche l'ultima Cosa fai per la tua salute? Qualcosa che ti fa stare bene in particolare? Ah beh, io ho una risposta pronta Io appena ho finito qui, infatti avevo detto anche agli organizzatori, dovrò andare via di corsa perché vado su a Monginevro dove domani faccio i campionati francesi di corsa in montagna partecipo e mi faccio 67 chilometri, 5.000 metri di dislivello e quindi è un buon modo per mantenermi in contatto con me stesso, la mia salute e aver cura del mio corpo Allora, vabbè, complimenti innanzitutto e in bocca al lupo per domani Grazie mille, grazie mille Spero come al solito di arrivare alla fine ma è già quella un'impresa Grazie mille per la tua testimonianza Grazie mille